E molti cittadini si chiedono, ma può un sindaco non applicare una legge dello Stato? E se lo fa, quali conseguenze rischia? Noi abbiamo rivolto queste domande a un magistrato famoso, Carlo Nordio, in passato capo della Procura di Venezia. Ascoltiamolo. L'annuncio dei sindaci di non voler applicare il decreto sicurezza è di una gravità inaudita, perché le leggi vanno rispettate senza se e senza ma, soprattutto da parte dei pubblici ufficiali. Poi l'alibi della cosiddetta incostituzionalità è un alibi infondato, perché una deliberazione preliminare è già stata fatta dal capo dello Stato nel momento della firma. E comunque è la Corte Costituzionale che deve decidere se sia o meno conforme alla Costituzione. Che cose rischiano? Possono rischiare un'incriminazione per alcuni tipi di reati, ma questo si può vedere soltanto dopo il fatto commesso. In realtà il messaggio che hanno dato è la cosa più grave, ma è un messaggio di disubbidienza nei confronti delle legge a seconda del proprio tornaconto e delle proprie idee. Maggioranza e opposizione si confrontano...